La religione, il patenone a Lutero, è quello che si può dire, forse non ho accorto, sono stato chiaro a dire il punto del nucleo guerriale, cioè nel fenomeno precedente, no? Non è mai successa una rivoluzione come è avvenuto con Lutero, le cose sono fermate lì, il potere ecclesiastico comunque l'ha eliminato, ecco c'è stato un qualcosa, è chiaro che evidentemente l'elettore Federico, che salva un po' la situazione, perché se no Lutero sarebbe andato sul luogo, il fenomeno Lutero non sarebbe mai esistito, no? Ma al di là di questo è stata anche qualche altra cosa, oltre ovviamente a Gutemerk, quindi all'invenzione della stampa, ma probabilmente è stata anche qualche altra cosa che ha reso la nascita e ha sviluppato sviluppare l'ultimo di essere, e comunque siamo una prolunga protestante. Sì, sì, ma io credo che sono proprio tutti questi fattori insieme, anche quella cosa della stampa non era sottovalutare, perché la grande diffusione, che prima non era possibile, è stata reso possibile, quindi è stata anche una coincidenza per dire tra questo personaggio che doveva essere molto forte, cioè Lutero era a volte una cosa imponente secondo me, era anche una persona scomoda, quindi non era diplomatico, anche poi più andava avanti più poi anche lui faceva delle scomuniche a destra e a sinistra, quindi in realtà e quindi non era facile da tacere, insieme con la situazione ecclesiastica e politica in quell'epoca in Germania, insieme con quella in Roma, però proprio questo è un fenomeno, forse non per niente, è nato proprio là. Io adesso per esempio sto studiando molto, perché facciamo delle cose a Napoli, sto studiando la riforma qui a Napoli, quindi non quello di Lutero che è importata qua, ma sto scoprendo che in Italia, cioè anzi Napoli era la culla della riforma in Italia, venendo dalla Spagna, non da Germania, dalla Spagna, veniva qui, bagliato un bravo, sono stato lì, ai contoni, Giulia Conzara, Pitino Colonna, cioè nomi famosissimi che erano venuti in questo circolo, che in realtà non hanno niente a che fare con Lutero, è tutta un'altra cosa, però la culla, cioè quella era qui, quindi era molto forte, la chiesa qui era spaccata in due, come in Germania, però qui non ci sono tracce, quindi qui l'Inquisizione ce l'ha fatto, non so perché, quindi sì ma è proprio questo, è un fatto anche di territori, di politica, perché in Germania ha fatto tutto quell'effetto e qui no, perché qui era lo stesso movimento, le stesse persone, Benadino no, chi erano dei personaggi, però sono stati soffocati con questi 1500 anni prima, sì ma anche già tutti l'hanno eliminato, ho fatto salti però, uno all'altro, invece con Lutero credo che uno sì, anche della stampa perché ha fatto una, cioè la stampa per quello perché con tutta questa diffusione, allora a un certo punto si trovano, nei lati anche dell'Inquisizione qualcosa che era difficile a un certo punto fermarlo, cioè dovevano eliminare Lutero di nascosto per non creare un martiri, perché tutti lo sapevano, cioè il suo pensiero è talmente diffuso, grazie alla stampa, che non si poteva più eliminare come prima, vabbè lo sapevano 5 e 6, ammazziamo 5 e 6, però la cosa poi finisce là, no ormai è diventato un fuoco proprio, poi era l'insieme la cosa dei principi, la cosa diciamo politica, l'altro politico che Federico, ma insieme anche con altri, il più forte però Federico, Federico poi era un diplomata, cioè lui era proprio non per niente chiamato il saggio, ma il suo scopo credo, non era tanto di appoggiare la riforma, perché lui lo sapete che aveva una grandissima collezione di relicchie, appoggiando la cosa di Lutero, infatti ammazzava se stesso, cioè lui ricavava tanti soldi da questa esposizione e tutto, quindi del pensiero non credo che lo abbracciava del tutto, però l'ha sostenuto uno anche per Obolio, perché appena formato la Loicorea, quindi questa famosa poi università a Wittenberg, che con Lutero e Erasmo e anche altri aveva dei personaggi e quindi uno di questi personaggi lo volevano far fuori, no, cioè proprio anche no, cioè senza di me, insieme con il tempo che era maturo che lui insieme con altri principi, che nel film si vede, dopo poi alla fine si oppongono, distaccarsi dal potere di Roma, non ne potevano più, cioè i tedeschi volevano stare per conto a loro, cioè già volevano eliminare sia l'influenza del Papa e tutta la Curia, sia di Carlo del Quinto, cioè anche Carlo, io scopro che Carlo del Quinto è un personaggio così variopinto che a volte è pro-reforma, a volte è contro, cioè è proprio una cosa anche lì non si capisce sempre bene, ma comunque i tedeschi, i principi tedeschi si volevano liberare da questo, anche dal fatto economico, cioè dovevano pagare un sacco di tasse, quindi conveniva su tutti i lati, sia politico sia economico e Lutero era lì nel momento giusto, cioè poneva opponenza e quindi questa causa che è Lutero era sempre soltanto teologico, anzi personale in realtà, non era neanche un teologo per essere, è un biblico.